Pace e bene a tutti, bentornati anche oggi il 3 marzo con il nostro appuntamento con la Santità. Noi ricordiamo Innocenzo d'Averso, Cappuccino. Ascoltiamo. Giovanni Scalvinoni nasce a Niardo, Brescia, il 19 marzo del 1844. Dopo pochi mesi gli morì il padre per una polmonite. Fin da piccolo ebbe una grande pietà per i poveri, dando generosamente quel poco che possedeva a coloro che bussavano alla porta di casa. Conserverà questo sentimento per tutta la vita. Trovava soddisfazione quando da Cappuccino andava in giro per la Questua e tornava in convento con la bisaccia vuota. Quello che riceveva lo dava ai più bisognosi. Trascorse l'infanzia a Berzo, frequentò poi il ginnasio nel collegio di Lovere e da qui passò al seminario di Brescia. Ordinato sacerdote nel 1867, ricoprì diversi incarichi, tra i quali predicatore di esercizi spirituali nei conventi lombardi e vice direttore in seminario. Da quest'ultimo venne rimosso per la sua mancanza di autorità. Il suo carattere timido gli faceva desiderare una vita di nascondimento e solitudine. Si fece Cappuccino e ricevette il nome di Fra Innocenzo. La maggior parte della sua vita la trascorse davanti al tabernacolo nel convento eremo dell'Annunziata. Amava molto il crocifisso e l'esercizio della via Crucis, che raccomandava ai suoi penitenti. Gli ammalati e gli afflitti andavano da lui per ricevere la sua benedizione e la sua fama di santità incominciò a dilagare. Nelle festività era al confessionale dal mattino alla sera. Morì nell'infermeria del convento di Bergamo il 3 marzo 1890, solo 46 anni. Pochi mesi dopo le sue spoglie vennero trasferite a Berzo. Il 12 novembre del 1961 San Giovanni XXIII lo proclamò beato e patrono dei bambini, che furono i protagonisti dei due miracoli del processo di beatificazione. Il suo convento e la sua cella sono meta di continui pellegrinaggi. Tanta gente vuole ancora assaporare attraverso i suoi luoghi l'incondizionato abbandono nelle braccia del padre. Innocenzo era una persona molto molto timida. Durante il suo percorso riuscì addirittura ad avere, nonostante la sua timidezza, il ruolo di vice direttore del seminario. Ma durò poco, fu deposto. Forse perché la sua timidezza gli impediva di rappresentare quella figura autoritaria che ci si aspettava. Ed era appunto questa la motivazione. Fu eliminato, fu cambiato da quel ruolo perché non aveva il pugno duro, non aveva l'autorità necessaria secondo i gusti di chi lo stava valutando in quel momento. Dico questo perché? Perché spesso pensiamo che le figure di santità siano perfette. Ossia gli occhi degli altri abbiano sempre il massimo dei punti, vengano sempre ascoltati, accolti, non facciano mai un errore, vengano sempre valutati ottimi. Invece no, vedete come quest'uomo santo è stato ritenuto non idoneo a rivestire un ruolo, un compito. Perché dico questo? Perché i santi sono uomini e donne come noi, nel loro vissuto possono essere compresi e non compresi, ma non sono supereroi, non sono quelli perfetti assolutamente in tutto, ma hanno delle grandi virtù. E la sua era appunto questa dell'umiltà, di mettersi a disposizione completamente di tutti, di pregare tanto. E la sua timidezza. Lui è anche il protettore dei bambini. Allora, oggi vogliamo pensare soprattutto ai bambini, ma ai bambini timidi. I bambini timidi sono coloro che arrossiscono, coloro che hanno difficoltà a fare nuovi compagni di giochi, coloro che pensano tante volte prima di parlare magari in classe. I bambini timidi portano tanta tenerezza. Perché? Perché hanno delle difficoltà che devono superare. Allora hanno bisogno del nostro incoraggiamento, hanno bisogno della nostra comprensione affinché capiscano una cosa importantissima, che la timidezza è un dono immenso da imparare ad utilizzare. Perché essere timidi vuol dire essere sensibili, vuol dire essere capaci di tenere presente nel proprio cuore gli altri. A volte questa cosa fa molto soffrire perché iniziamo a tenere troppo in considerazione il giudizio degli altri. Ecco perché siamo un passo indietro. Ma in realtà la timidezza consente anche di riuscire a essere un passo indietro rispetto alla zona che compete agli altri. E quindi la bellezza dell'essere timidi è proprio la bellezza anche di avere una ricchezza che si sta custodendo in quel momento. Quindi senza essere prigionieri della propria timidezza cerchiamo di far sfiorire la bellezza che c'è in noi perché Innocenzo, nonché fosse stato timido, si è santificato. E diciamo, Innocenzo da Berzo, prega per noi. Innocenzo da Berzo, prega per noi